C'è ancora molto lavoro da fare, ha detto il Premier Mario Draghi al Consiglio europeo che sta terminando in questi minuti, ben trovati oltre i fatti e tra poco aspettiamo anche che arrivi in diretta il Presidente del Consiglio per la consueta conferenza stampa che vedremo insieme, tradurremo in integrale, Laura Ferrara, eurodeputata, capo delegazione al Parlamento europeo Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio a voi. Molto lavoro nelle scorse ore, tanti capitoli, tanti temi, alcuni che sono stati dirimenti e su cui non sembra si sia trovato grande accordo tra le parti, in particolare il tema del rincardo dei prezzi dell'energia. Parliamo e partiamo da qui, poi lo commentiamo. Intervenire al più presto per limitare gli aumenti del prezzo dell'energia. Al Consiglio europeo di Bruxelles, Mario Draghi, sprona i leader UE a individuare soluzioni per un'impennata che penalizza imprese e famiglie. C'è ancora molto da lavorare, dobbiamo preservare la ripresa e la transizione ecologica, una strada che non convince molti paesi, in particolare quelli del nord, meno toccati dai rincari e poco interessati ad interventi sul mercato energetico. La Commissione preme, ma non può spingersi troppo oltre, in un settore di competenza dei singoli stati. E così, per un'intesa quanto mai difficile, bisognerà attendere altri vertici. Le divisioni tra le capitali sono molte, in quello che potrebbe essere l'ultimo summit europeo di Angela Merkel. La cancelliera ha dovuto usare ancora una volta tutta la sua capacità di mediazione per frenare chi vorrebbe sanzionare la Polonia per la decisione di negare il primato del diritto europeo su quello nazionale. Un gesto che riaccende i timori per una pole exit e il rischio di sanzioni per Varsavia. Tra queste, il possibile stop dei fondi del recovery se non ci sarà un passo indietro. Il Parlamento europeo si è espresso a favore di questa possibile ipotesi in una risoluzione passata con l'ok di PD Forza Italia e Movimento 5 Stelle, la cosiddetta maggioranza ursula. Un voto che ha diviso il fronte del centrodestra con Lega e Fratelli d'Italia contro ogni possibile punizione nei confronti di un paese a trazione sovranista. Onorevole Ferrara, la decisione sulla Polonia è una non decisione? Che cosa ne pensa? Senz'altro bisogna dare un segnale importante perché quando si parla di stato di diritto e di diritti fondamentali non si può far finta di nulla o tentennare e aspettare che le cose si risolvano da sé. Quindi è chiaro che bisognava dare un segnale, ripeto, e agire con celerità. E francamente il tentennamento della Commissione non andava bene anche rispetto alla decisione che era stata presa con la condizionalità rispetto alla tutela dei diritti fondamentali dello Stato di diritto rispetto all'erogazione dei fondi. Dunque la decisione del Parlamento di dare mandato per intentare una causa contro la Commissione è senz'altro un qualcosa di forte ma riteniamo un atto dovuto. Poi è chiaro che nella misura in cui si dovesse trovare una soluzione per evitare anche incidenti diplomatici tra le istituzioni europee, questo è quanto di meglio e così possa trovare una soluzione che vada a intervenire prima che si possano adire le vie legali e quindi garantendo soprattutto ciò che più importa, quello che è poi l'obiettivo, chiaramente garantendo quindi il rispetto dei diritti fondamentali. Questo è il tema dei temi nel senso che se ne dibatte davvero da diverso tempo non soltanto in relazione alla Polonia ma anche rispetto all'Ungheria e ad altri paesi ovvero come assicurare la tutela dei diritti fondamentali che rappresentano il pilastro rappresentano la legittimazione dell'Unione Europea e purtroppo l'Unione Europea devo dire non ha strumenti a sufficienza per prevenire la violazione dei diritti fondamentali. Un Paese deve aderire all'Unione Europea con un monitoraggio, con la verifica del rispetto dei cosiddetti criteri di Copenhagen ma nel momento in cui poi si entra a far parte dell'Unione Europea forse poi si dà per scontato che si rispettino i diritti, le carte, i trattati senza attuare un monitoraggio efficace rispetto alla prevenzione. Ricordo ancora quando fui relatrice sullo Stato dei diritti fondamentali nell'Unione Europea che è mettere in piedi un monitoraggio che valeva quasi a creare una blacklist di paesi diciamo meno bravi rispetto ad altri. Meno virtuosi certo. Esatto e quindi questo non piaceva e non metteva d'accordo. Però onorevole Ferrara proviamo a internalizzare il discorso, lei l'avrà già interiorizzato tra l'altro però il voto, la risoluzione sulla Polonia fa riemergere delle matrici diverse all'interno della coalizione di governo. Il voto della Lega, il voto dei Fratelli d'Italia che però è all'opposizione, il voto del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, della cosiddetta maggioranza Ursula. Teme ripercussioni interne oppure come se lo aspettavano gli analisti, i giornalisti lì a Bruxelles? E' ed era nella natura delle cose. Sì, devo dire che è nella natura delle cose, non è la prima volta che Lega e i Fratelli d'Italia, in particolare la Lega perché come giustamente li osservava Fratelli d'Italia poi è all'opposizione, ma insomma la Lega si accoda molto alle posizioni in ambito europeo dei governi cosiddetti nazionalisti o comunque che si pongono come antagonisti rispetto a una maniera di concepire l'Unione Europea in termini di cooperazione, in termini unitari, in termini europei, comunitari. Dunque non ci ha colto particolarmente di sorpresa, si continuano a inseguire questi modelli, quindi ripeto fortemente nazionalisti, egoistici e questo alla fine già si sapeva da quando poi la Lega ha deciso di entrare nella maggioranza a sostegno del governo Draghi. Quindi rientra nel normale, se così vogliamo definirlo, ordine delle cose. Non spiace purtroppo perché, ripeto, tante volte anche quando si parla ad esempio di immigrazione che rappresenta un cavallo di battaglia della Lega, un tema sul quale fa leva spesso e che strumentalizza al più delle volte, ecco lì è proprio in ambito europeo che si decidono i regolamenti, le direttive che vanno a disciplinare i flussi migratori, che vanno a disciplinarne la gestione interna ed esterna e invece se ci si arrocca sulle posizioni di Polonia, Ungheria e quindi si dà sostegno a paesi che invece non vogliono affatto saperne di cooperazione e di equa ripartizione delle responsabilità si fa un danno al paese, si fa un danno ai cittadini italiani e si va contro quindi i nostri stessi interessi e questo è un paradosso, insomma, è una forte contraddizione che loro poi dovranno spiegare chiaramente ai loro elettori. Il governo a questo punto su 23-24 riforme, su attuazioni di investimenti, anche qui una ventina si ha più o meno intorno al 25% del lavoro e che inizino a sorgere dei dubbi sul fatto che per Natale tutto questo si possa fare con relative eventuali reazioni da parte dell'Europa. Ecco, ci giochiamo tanti soldi ma esistono delle scadenze, non bisogna dimenticarselo. Si respira quest'aria, non dico di scetticismo in Europa, ma di controllo serrato su quello che sta avvenendo nel nostro paese? No, francamente no, non vedo, non leggo preoccupazione o inquietudine rispetto alle riforme che sta continuando ad attuare l'Italia. Anzi, mi sembra che il percorso che è stato intrapreso a livello italiano sia stato apprezzato e che rientri quindi in ciò che l'Unione Europea chiedeva proprio per far fronte ai problemi strutturali oltre che alle immediate difficoltà dovute alla pandemia. È chiaro che comunque l'impegno è grande e i tempi, se vogliamo, sono stretti rispetto all'ammontare comunque dei fondi importante che è stato stanziato. Quindi questa obiettivamente rappresenta una grande sfida a livello governativo e a livello locale perché poi non dimentichiamoci che chiaramente queste riforme devono essere applicate a livello anche regionale, locale e quindi richiedono delle amministrazioni efficienti, svelte su questo. Quindi bisognerà puntare molto su formazione e affiancamento magari con un team di esperti in modo tale che si evitino commissariamenti e si riesca soprattutto a mettere in pratica quelle riforme che non solo, ripeto, sono state concordate con l'Unione Europea ma soprattutto che vanno a giovamento dei cittadini. Buon lavoro onorevole Ferrara, grazie e buon lavoro a Bruxelles. Grazie, buon lavoro a voi. Alla prossima occasione.